L'umanesimo che è così necessario in Italia e in Europa, ce n'è poco, lo intacchiamo e credo che la grande capacità del meeting è proprio questa, di mettere assieme realtà diverse, di farci conoscere tanti aspetti dell'umano, perché come diceva Poto e Giussani la più grande mancanza è se non sentiamo la mancanza dell'umano, ne abbiamo bisogno, il meeting ce n'è tanto, ci aiuta a vederlo negli occhi e per certi versi il tema, nacque il tuo nome da ciò che fissavi, ci aiuta a trovare il nostro nome, a ricapire il nostro nome. I social sono un modo molte volte per non guardare l'altro, per cercare sempre soltanto se stessi, c'è bisogno di fissare, di guardare, Papa Francesco userebbe il termine contemplazione, la contemplazione dell'altro, vuol dire saper guardare quello che c'è, guardare con occhi umani, guardare con interesse, guardare con attenzione, se c'è questo io credo che da questo possono nascere tanti incontri e il meeting sicuramente ne realizzerà molti.